Ci siamo conosciuti suonando, ci siamo conosciuti a una jam principalmente e da lì poi ci siamo innamorati. No, in realtà da lì abbiamo cominciato a suonare sempre più spesso, prima le cover come fanno tutti, poi da lì abbiamo capito che forse c'era anche altro e ci siamo dedicati alle nostre cose. Allora, da cosa deriva il nostro nome? Potremmo sembrare delle persone intelligenti e quindi direi, prima di tutto ci chiamiamo pi greco, non è perché abbiamo qualche velleità matematica, ma è semplicemente perché nel nostro simbolo un pi greco sembrava un omino che balla. Allora, il nostro sound con tre aggettivi, direi che visto che la nostra è costante la pizza, beh sicuramente la pizza deve essere croccante, se no non è buona. Quindi il nostro sound è croccante, morbido, intrigante, intrigante. Allora, avevamo pensato al rosa rinascimentale con un po' di glitter dentro, perché comunque ci vuole della brillantezza, però se vogliamo usare dei colori primari, tipo il rosso, siamo sanguigni, sì, 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 dai, dai. Ok, però rosa rinascimentale con il glitterato è il migliore. No, la pizza non è un ingrediente, no, la musica è cibo, ok? Il groove, allora se la musica fosse cibo, il groove per noi è il... Vabbè, dai, lo facciamo, è la pasta, è la pasta, abbiamo detto che è la pasta. Ok, qual è il nostro chill meal? Noi ci siamo sentiti molto bene qua, non perché si chiama chill meal room, vabbè, no, noi ci siamo sentiti bene, quindi ci sentiamo bene ogni volta che suoniamo insieme. Questo è un po' il nostro chill meal, è quello che creiamo, il nostro chill meal. E dai, ci ho pensato anche a questa cosa, guarda che non ho dormito stanotte per rispondere a questa domanda. Ok, siamo noi il nostro chill meal.